Salve tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aggiornare tutti i driver sul tuo portatile acer quindi in questo caso è possibile scaricare gli aggiornamenti sul suo sito ok quindi in questo caso per esempio prendo il portatile predator ph31552 quindi in questo caso vado prima su casa quindi ti ho lasciato in descrizione il link che ti porterà sulla pagina acer qua vado direttamente sul supporto ok una volta andati sul supporto vai su driver e manuali una volta entrati qui inserisci il numero di serie lo snid o il numero del modello quindi se per esempio hai comprato un portatile su amazon lì proprio su amazon c'è proprio il titolo del portatile inserisci il titolo del portatile qua oppure sotto al portatile c'è proprio l'indirizzo proprio il numero di serie del portatile e lo inserisci qua quindi io vado direttamente a mettere il modello quindi vado a mettere direttamente il nome del portatile ecco il portatile driver e download una volta fatto hai finito qua modalità aereo audio console audio bluetooth chipset driver lan pure per la connessione ethernet vga utilità vga e hai fatto per esempio i driver audio ed eccoli qua vai a scaricare direttamente i driver audio e li vuoi installare qui c'è il pacchetto qui c'è il pacchetto rar quindi vanno estratti questo è un file zip quindi va estratto con winrar in descrizione ti ho lasciato pure il link per scaricare il programma winrar clicca qua sopra vai extract to audio realtech ed ecco la cartella di aggiornamenti ed eccolo qua script di comando e installi stessa cosa con gli altri driver per il tuo portatile quindi basta seguire solamente queste procedure e scaricherai tutti i tuoi aggiornamenti e i tuoi driver sul tuo portatile quindi iscriviti lascia like commenta per altri problemi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao